proviamo la funzione di parcheggio automatico si attiva con questo pulsante lei adesso inizia a scandagliare tutti i posti in cui io posso starci funziona fino ai 30 all'ora e mi dice c'è un posto in cui ci stai io seleziono facciamo prova qua mi dice c'è un posto e ti dico ci voglio andare parcheggia inserisci la retro io metto la retro e lei fa tutto da sola io devo solo stare attento a che non passi un bambino qualcuno frena lei fa tutto lei gira il volante da sola rimette la marcia fa tutte le manovre frena lei una volta trovata la posizione ideale tac mi dice che è finito voglio uscire io rispingo qui mi dice uscire dal parcheggio si metti la retro di nuovo io metto la retro e lei ricomincia quelle manovre questo non è niente di che è lei che frena in automatico comunque mi fa impressione una maniera incredibile non avere il controllo del mezzo infatti sono sempre qui col piede sul freno perché può succedere qualsiasi cosa che uno deve essere pronto comunque lei ti esce e una volta uscito ci mette 12 manovre in più di quello che ci metterei però insomma è l'inizio di questa tecnologia una volta che esce lei ti dice prendi possesso della macchina e io vado ciao